Ne abbiamo otto e io così passo a presentare la giuria. Iniziamo con Small, penso che lo faccete tutti. Small qui al centro con me. Eh sì, excuse moi. Small Cuba Taliente, facciamo un applauso. Yes, giusto? Allora, facciamo un applauso anche a loro. Quindi andiamo avanti, Daniela Micucci, lo conoscete tutti, facciamo anche lui un grande applauso. Andiamo avanti, è Sauro, della scuola Salsaro di Ancona. Facciamo un applauso anche a lui, grazie di essere qua. Il mago, Maurizio il mago, che ha avuto modo anche di lavorare spesso con noi durante le serate. E' un mago, è un mago. Poi Marco, della scuola Mondoratino, di Giesi. Facciamo anche lui un grande applauso. Rufi, grazie. Poi andiamo avanti, ci sono tutti i fogli iscritti, ci siamo. Poi c'è Carla Giacani, della palestra Lina Club. Vai Carla! Poi c'è Daniele, del sito salsamarchestyle.com. Tutto bene? Yes. Poi c'è Vizio, del sito Baila Latino. Bravo Vizio. Vizio ha anche un altro applauso, visto che offro il vino pure, quindi doppio applauso. Poi abbiamo Salvatore, che è come l'anno scorso il giudice, che non ha visto mai ballare nessuno, eccetto l'anno scorso. Teniamo in quarantena, così almeno c'è il giudizio proprio del popolo. Credo di aver chiamato tutti. Scusa. Luca da Filoprano. A Greco. A Greco. Grazie a tutti. 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 Luigi e Natascia, Luciano e Lucia, Paolo e Samuela. Grazie a tutti. E' un po' la gita dominicale col pullman. Giuliano e Francesca? Giuliano e Francesca? Bene, andiamo col preascolto. Grazie a tutti. E' un po' la gita. Grazie a tutti. Facciamo un applauso e incoraggiamento a tutte le cose che sono fino a ACP. Grazie a tutti. 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 Yes, yes. Poi chi c'è? Chi c'è che non vedo? E poi c'è Luca che conosco, Chico. Chiara? Sì, yes. Facciamo una foto? Grazie, io non potevo festeggiare meglio il compleanno che non con loro perché, insomma, io ci credo un sacco alla collaborazione tra le scuole di ballo, quindi mi fa un sacco piacere averli qua stasera con noi. Poi c'è Bizio, stai piangendo, siete commossi? Benissimo. Ok, io andrei, partirei con la premiazione, quella più difficile da assegnare, con la rueda, chiamiamo i ragazzi della rueda che hanno vinto. E' stata dura, è stata dura, siamo stati in camera di consiglio per ore in ore, dopo purtroppo ci ha portato qualcosa da bere e è passata bene. Se magari uno che non si vergogna viene qua, ritira il premio virtuale, facciamo la foto. Sì, dai, anche se non siete totalmente vestiti, non è lo stesso. Yes! Ok. È lento. Ma basta una sola? Ritiro il premio. Ritiro il premio, è questo, grazie. No, il premio per la rueda che ha vinto, così difficilmente, allora voi prendete il buon omaggio Sena che vi offre lo show food, che ritiro io per voi. E che me lo bagno pure, grazie. Facciamo la foto? Ci andiamo tutti, Luca? Ci siamo tutti oppure ci stringiamo un po'? La fa lei la foto. È finito? La fa lei la foto. La fa lei la foto? Più vicini ragazzi, più vicini, siamo più vicini? Paolo, te ovviamente giù perché sennò con gli altri non ci veniva nessuno. No, questo non si fa, le due di notte. Ok, io mi metto qua, almeno sto vicino o vicino? Cis? Ma ragazzi, qui li atti davanti. Esatto. Giappo! Mori il f***o, non so scontato a chiamarlo prima. Certo, non sto scelto di più. Ah, ecco, impegnato. La matrona! Oh, c'è anche Cinzia, va con noi. Bene. Me copri. Uhuh! Cis? No, Cis? Fatta, ok. Adesso ve ne potete pure d'andare. Grazie. Bravi ragazzi, finalmente dopo dieci anni di proie avete vinto una gara, complimenti. Scherzo, scherzo, scherzo. Che ne vede l'ora? Vi permetto di rieso perché insomma vi vedo sempre. Esatto. Allora, baciata, coppia terza classificata, la numero tredici. Applauso, Lucia e Luciano. Poi, coppia seconda classificata, la numero tredici. Applauso, yes, questa tra l'agosto, Bettina. E vince la c***a classificata allo Show Food, stagione 2009, la coppia numero 6. Ok, ho uno standing ovation e questi due vincono il viaggio, due per uno. Abbiamo rotto, penso, un paio di coppie lì però, vabbè. Complimenti, bravissimi. Dietro a te non vengo niente, ci avviciniamo tutti, facciamo la foto. C'è le spalle larghe questo ragazzo, eh? C'è le spalle. C'è le spalle. Bravo, Dani. Oh Lu, se ci metti sotto un sottofondo non ci offendiamo. Tanto non te la foto non si è niente. Adesso Cinzia vi distribuisce i vini. Ci siamo? Grazie. Ringraziamo Luca e Santa Marche per il supporto audio-video. Allora, questo è il premio, è il viaggio. Ok, qui è il viaggio. Questi due vanno per una testa e là una testa. Non ve la date sulla testa. Ve la bevete prima. Ah, non lo so. Vai, Marco! Non so. No, scusate che le foto, tutto viene alla luna. Sì, ma non sai, ma anche la testa. Cercare di fare meglio, dopo mi esci? Puoi? Ve l'abbiamo segnato. Vediamo. Uno a coppia della seconda e terza. Seconda? Anche a questo, sì. Ok, poi andiamo adesso con la premiazione della salsa principianti. La coppia terza classificata è la numero uno. Coppia numero uno, terza classificata Giuseppe Sveva. Con fulore. Facciamo un applauso a Giuseppe, ma soprattutto a Sveva. Complimenti, bravissima. Se ti chiamano per il bacio alla giuria. Poi, la coppia seconda classificata è la numero nove. La nove? Oh, Giannette Rocco. Rocco è nome d'arte, mi dico. Benissimo. Poi, la coppia prima classificata è la numero cinque. Coppia numero cinque. È fuggita la cinque? No, è la quattro. La cinque? Che è il senatore, non è possibile. Maurizio e Maria Grazia. Io non ho la giuria. Complimenti. Chi ti aveva detto, cara mamma? Ok. E qui noi lo diamo dopo, facciamo la foto, noi tutti su in basso. Che gliela fai? Benissimo. Dai Giannette, dopo ti diamo su in due o tre, via. Sorridiamo. Ok? Yes. Ci siamo? Benissimo. Le seconde e terze classificate passano la cinza che mi dà il vino. E il compreno per la vape, per pulire tutto, insomma. Ciampi vari. Sì. Ok. Adesso andiamo con l'ultima premiazione. Oh, ah, hai vinto il premio del viaggio. Invece, il viaggio due per uno lo scegliete e lui paga del nostro. Così. Prego. Allora, salsa open. Poi concludiamo le premiazioni e abbiamo finito sangria. Ragazzi, qua per tutti lo show food c'è la sangria là, quindi approfittatene. Allora, abbiamo due exequo a terzo posto, quindi due coppie che sono classificate terze. La coppia numero 8 e la coppia numero 12. 8 e 12, terze classificate. Te la porti da casa la bottiglia. C'è un ragazzo che pensa a tutto. Bravo. Oh, la topolona, molto bene. Complimenti. Poi la coppia seconda classificata. 13. La numero 13, la 1-3. Luciano e Lucia. Perché questo è senciuccia stasera che non si... Complimenti. Bravissimi. Poi vince la coppia numero 6. La coppia numero 6 vince la salsa. Appalata, appalata. Sei vergognoso. Complimenti. Bravi, bravi. Te poi non ci volevi niente, eh? Uno mi è passato a me, caro. Un'altra foto. Mettiamo giù, è l'ultima. Bravi ragazzi, grazie a tutti.